un esempio ma non più ragioni non più ipotesi veniamo al fatto in cui la verità non solo si intende non solo si vede ma si palpa racconta san gregorio che ai suoi tempi in roma era un certo uomo per nome servolo ben noto a lui e dai suoi uditori povero insieme ed infermo quasi disfatto dalla lunghezza della malattia poiché dagli anni più teneri fino alla fine della vita giaceva paralitico con grandi dolori non poteva stare in piedi non poteva neppure alzarsi a sedere sul suo letto non poteva voltarsi sull'altro fianco che più non poteva neppure condurre la mano alla bocca per pigliar cibo ma aveva bisogno che la madre o il fratello lo cibassero quando tornavano a casa dopo aver raccattato per sé per lui qualche tozzo di pane o qualche denaro in elemosina eccovi in un solo uomo compendiate le maggiori calamità di questa vita chi crederebbe che in tal stato potesse aver luogo l'allegrezza e la giocondità pure udite egli non sapeva leggere ma pure risparmiando con stento alla sua fame qualche denaro si era comperato i codici della sacra scrittura e quanti religiosi capitavano in casa sua tutti li pregava a leggere in sua presenza senza intermissione e così avvenne che quanto portava la sua capacità imparò egli pienamente la sacra scrittura questa era dunque la sua occupazione di e notte in mezzo ai suoi dolori cantar salmi inni laudi rendimenti di grazie a dio o dio immaginate voi quale dolcezza quale giocondità era quella che passava da quel cuore alla lingua che si risolveva nell'odi anche in quel punto che i dolori la stimolavano le querele e convertiva in dolcissimo miele di lieti canti l'amarissimo fiele di tante tristezze essendo pertanto venuto il tempo che dio voleva rimunerare tanta virtù di quel suo servo e sentendosi egli approssimarsi alla morte invitò alcune persone che si trovavano in casa sua a cantar salmi con sé nell'aspettazione del suo transito e mentre egli pur moribondo salmeggiava con loro d'improvviso alzando con forte grido la voce interruppe salmeggiamento dicendo tacete e non udite voi quante laudi risuonino nel cielo e tendendo egli orecchie del cuore a quelle lodi stesse che dentro udiva la sua bell'anima se ne volò fuori sciolta dal corpo ma nell'uscire asperse quel luogo di tanta fragranza d'odore che quanti erano presenti furono pieni di inestimabile suavità chiaro segno che fra quelle lodi veniva già quest'anima benedetta accolta in cielo e certo benedegno era di essere aggregato al coro dei celesti cantori colui che in vita ne aveva sempre emulato il fervore il gaudio lo spirito cantando quasi un angelo senza mai posa le lodi di dio